Ciao a tutte ragazze, io sono come sempre Berta Filava. Prima di guardare il tutorial di oggi vi invito a collegarvi su Facebook alla nostra fanpage Berta Filava e ad iscrivervi al nuovo gruppo Facebook Aliexpress slash Amazon per creative by Berta Filava dove troverete tutti i link per poter acquistare i materiali da noi usati sui nostri tutorial. Vi lascio alla visione del video. Grazie a tutte e alla prossima. Ho fusturato anche tre pezzi della seconda base, però ne userò due, quindi quello da tra e quello più piccolo, tre pezzi del nostro manico e sette lati che sarebbero questi. Quindi uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Ok? Partiamo col montaggio. Questa tazza non viene molto grande, viene una decina di centimetri circa. Allora, in realtà potresti anche evitare i terzi strati, solo che era per dargli un pochino di colori. Di colore, ovviamente lo potete fare anche in gomma. Io lo sto facendo in feltro perché avevo questo pezzo di feltro giusto per farci qualcosa. Il feltro tre millimetri e quello marroncino è un millimetro. Credo che sia un millimetro, è un pezzo che già avevo. È giusto per dare un po' di colore. Poi ovviamente io vi faccio vedere la base e poi voi andrete a colorare, a decorare come preferite. Preparo la base. Metto la colla. E metto praticamente i tre strati. Tre strati, due barra, tre strati, vi consiglio sempre di metterle. Quindi, ripeto, questa marrone più scuro è un due millimetri, un millimetro comunque più sottile. Ora vi direi una bugia perché non me lo ricordo. Poi, siccome la tazza sarà azzurra, metto questo strato di feltro azzurro. Non è una regola, giusto per farvi vedere come viene la fustella. E vi do, metto un altro po' di colla e attacco quest'altro pezzetto. Quindi, ripeto, questo penso che sia del feltro un millimetro. Credo all'inizio di aver detto un millimetro, due millimetri, ma non era errato. Ora, vado ad incollare i lati della mia tazza di sovrappongo per incollarli. Quindi, metto la colla e sovrappongo. Ok? Io metto le mani, ma anche se ho cambiato la pistola a caldo, è sempre con le temperature. L'altra, purtroppo, mi ha abbandonato. Ed ero curiosa di provare questa. Quindi, chi vuole, vi do il link di questa nuova pistola. Ovviamente, sul gruppo Aliexpress, slash Amazon, per creative by Bertafidava, gruppo Facebook. Perché l'altra mi piaceva tantissimo. Però, vi posso garantire che questa è molto più stabile. Ha l'occhiello comunque sottile. È molto... è più ergonomica rispetto a quella bianca. Quindi, ho fatto bene a provare altro. E continuo a incollare. Mi raccomando, non intrecciatevi, eh. Quindi, voi mi vedete mettere subito le dita sopra la mia creazione. Ma, occhio, perché io uso la pistola con le temperature, anche se è cambiata. Quindi, venite sul gruppo e lì troverete tutti i link dei materiali usati. Vedete? Io vado tranquillamente. E questa, questa colla, questa pistola, devo dire, lascia anche pochissimi fili. Ok. Vedete? Io vado tranquillamente subito a pulire. Ok. Il qualche materiale lo metto anche nella descrizione. Però, prima mi era scomodo poi andare a aggiornare i materiali. Quindi, ho creato il gruppo Facebook, appunto, per riunire tutto lì. Niente di... Siccome non voglio ricaricare, acquistare da Amazon e Aliexpress e rivenderlo per ricaricare 2 euro. Attenzione qui, quando avete finito a fare il giro, non state attenti a incollare bene. Quindi, mi raccomando, dovete anche qui sovrapporre. Quindi, guardatelo. E... 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 Lo sguardo in più non è sbagliato. Ok. Aspettate che è venuta la mia figlia. Eccomi. Allora. Ora, per dare la forma, un pochino la allargate con le mani. Vedete? Allargate. E prendete un attimino la misura con la base. Vi consiglio comunque di allargarlo. Quindi, guardare e allargare. Guardare e allargare. Io a volte rigiro. Posiziono. Rigiro. Vedo se si allarga. Ti do un po' di... Di gioco con le mani. In modo... Da dare la forma della tazza. Con la gomma mi viene più comodo. Col feltro è un attimino più duro. Questo è un feltro spesso. Quindi... Devo un pochino... Lavorarlo con le mani. Però... Mettete la colla sotto. Qui. E incollate. Voi vedete il fiore base con i petri a tre onde. Vi verrebbe automatico pensare che vanno attaccate nella seconda basetta. No. Va attaccato così. Ok. Quindi devono essere sette. Diciamo i laterali. I pezzetti per fare la tazza. Allargate un pochino con le mani. Così. Voi sicuramente sarete più brave. Col feltro. E mettete la colla al vostro manico. Così. Diciamo che è lo stesso metodo del tazzone. Ovviamente se volete vi... Eccola qui. Vi... Ingrandisco questo schema. E ve lo rendo scaricabile. In modo da poter farci anche il tazzone quello grande per il caffè. Guardate. Ovviamente dovete ripulire la colla all'interno. Grazie a tutte. E al prossimo video. Un bacio a tutte. Grazie. Tanti like. Grazie.